Salve gente, sono Cercchino98 e vi do il benvenuto ad un nuovo video su QuakeLive. Bene, in questa partita sto giocando un duello in clan arena con Infinite Power, ma commenterò dopo la mappa perché c'è la partita, perché prima ci sono delle cose su cui devo informarvi. Quindi, intanto Half-Life non è più uscito perché non mi funzionano più i tasti per andare avanti e indietro e questo rende il gioco quasi ingiocabile. Sto tuttora cercando di risolvere il problema ma finché non ci sarò riuscito la serie dovrà restare ferma. Il che mi rode un po' insomma perché Half-Life mi sta piacendo veramente tanto e voglio finirlo, ma purtroppo dovremmo aspettare. E è successa una cosa simile anche con Starbound perché c'è stato un update da poco, un aggiornamento da poco, è uscita una nuova versione e è stata aggiunta della roba abbastanza carina. Però mi è stato cancellato il personaggio e quindi tutto quello che abbiamo fatto finora è stato perso. E ora ne ho creato uno nuovo e cercherò di arrivare velocemente al punto in cui ci troviamo. Detto questo, la mappa in cui ci troviamo è Space Camp che è una delle mappe che di più odio perché è sostanzialmente Campgrounds che è un'ottima mappa invece. Però strutturata in modo che ci siano molti più posti in cui è possibile cadere nel vuoto. Infatti, come vedete, appena qualcuno viene colpito da un razzo o da qualcos'altro, il 70% delle volte cade nel vuoto e muore. Quindi non mi piace molto. Bene, qui come ho anche scritto in chat, come potete vedere, sto perdendo perché questi due round li ho ingaggiati soprattutto con la Lightning Gun. E sto facendo schifo con quell'arma. Infatti non me la cavo molto bene a difenza di Infinite Power. Qui poi con questa prima partita, perché ce ne saranno due, è un po' noiosa perché la mappa è un po' grandina contro due. Io cerco sempre di giocare stando in silenzio e cercando di capire dove si trova il mio nemico. E quindi la maggior parte del tempo mi muovo lentamente e c'è poca azione, insomma. Qui, niente, cerco di evitare lo sconto diretto perché lui ha una legge molto migliore della mia e quella è la migliore arma per gli scontri diretti. Però facendo un rocket jump finisco nel vuoto, il che non è proprio ottimo. E adesso stiamo 3 ad 1. Ora qui sto cercando di sentire, dov'è come dico? Lo vedo lassù. Riesco a colpirlo con una rail. E cerco di nuovo di muovermi in silenzio. Ora lui è sopra il ponte. Io scendo nella zona bassa della mappa e qui dove ci dovrebbero essere le colonne, almeno su campgrounds. Non so, lo cerco se cercano di non farmi sentire troppo. Perché non voglio farmi prendere di sorpresa. E quindi subire dei danni che potrei comodamente evitare. Qui riesco a beccare due razzi col colpo diretto. E un altro quasi, quindi riesco a fargli molto danno insieme alla rail di prima. Riesco ad ucciderlo. E quindi, bene. Qui penso che lui si ulterà giù, quindi tiro fuori l'LG. Forse non è un'ottima mossa, ma in certi casi può essere utile utilizzarla. Anche se sai che il tuo avversario è molto meglio. Perché specialmente, quando si utilizza l'LG, specialmente quando un personaggio è in aria, cioè il tuo nemico si trova in aria o sta cadendo da qualche parte, è abbastanza facile prevedere il percorso che farà e quindi fargli un grosso danno con l'LG. Come in questo caso, sono riuscito ad avere una precisione un po' più alta perché sapevo la tagliatura che avrebbe preso. Poi sullo sconto diretto... No, invece ce la faccio. Ottimo. Beh, forse è stata una buona idea tirare fuori il lanciarazzi, dato che me la cavo molto meglio con quest'arma. Il lanciarazzi è l'arma che utilizzo di più. Qui, proprio... Epic fail. Cioè riesco a tirare un'aria all'inizio del round che è un ottimo inizio e poi cado nel vuoto all'indietro. Questo è proprio il motivo per cui odio questa mappa. La odio. Qui cerco di capire da che parte arriva, da quella lì, quindi spammo dei razzi. Scappo e... Stavo per cadere di nuovo. Lui riesce a fare un po' di danni ma non ho visto se l'ho colpito con la... Rayleigh. Lui salta su. Avrei voluto prenderlo con un razzo diretto se avessi avuto un tempismo un po' migliore ma non ce l'ho fatta. E... Pazienza. Sì, qui scappo dall'altra parte. Ma lui mi segue, però lo colpisco con una rail. E... Cerco di spammare dei razzi per evitare che lui si avvicini. Qui ascegno nella parte bassa della mappa. E... E... Niente. Continuo a correre, a saltellare come faccio sempre. Anzi, qui controllo che lui non mi aiuta lassù. Sì, è un momento un po' noioso questo. Non sto proprio facendo niente. Giron solo per la mappa in silenzio, aspettando di vederlo e magari di riuscire a tirare una rail. Come provo qui, ma senza successo. Quindi... Cerco di nuovo di allontanarmi. E lui mi sta seguendo. Il problema è, viene da quella parte o dall'altra? O da sopra? Non si può sapere. Viene da... La... Con la porta al centro. Non riesco a colpire con l'LG e neanche con la rail. Cerco di... Di sparmare anche con un po' di plasma gun nel caso gli passassi attraverso la porta. La plasma gun è veramente... Ottima per prevedere i nemici che passano sulle porte. Perché se si trovano in degli spazi molto stretti, è quasi impossibile evitare le volle di plasma. Qui ovviamente ho fatto un'altra caduta proprio schifosa. Vabbè, sono taliste. Non barate alla chat. E qui è... Lui è morto completamente a caso. Deve essere caduto da qualche parte come me. Beh, di questo non posso che essere contento, suppongo. E... Qui aspetto che lui passi lì perché... Sentendolo saltare pensavo ci sarebbe passato, invece non c'è passato. Quindi non ho potuto colpire con una rail. Poi qua su... Resco a prenderlo con un razzo. Ma no, la rail se ne va. Lui invece comincia a farmi del danno abbastanza pesante. E quindi io me ne vado. Mi segue. Non lo colpisco. Anche se quella era una rail abbastanza facile. Anche questa. Sì, ne ho mancate alcune... Che avrebbero potuto aiutarmi. Però... Cioè, io... Non sono così forte, quindi... Non è che colpisco sempre le rail. Ci sta. La mia strategia qui è di cercare sempre di fare questi attacchi mordi e fuggi. Però non sempre è possibile. Cioè, di verità sarebbe possibile. Ma... La maggior parte delle volte cado. O in uno scontro diretto perché lui mi colpisce con i lanciarazzi. O in questi casi che mi ritrovo chiuso in un angolino e non so cosa fare. Lui infatti arriva su. E... Credo mi faccia del male. No, cado. Per l'appunto. Però... Era rimasto... A meno di 50 punti vita. Quindi... Se non fosse caduto avrei potuto vincere il round. Ma non ci sono riuscito. E qui... Comincio dalla zona delle colonne. E faccio un fail assurdo. Infatti scrivo che qualcuno mi deve spiegare questa. Ma va bene. Poi... Non so. Quel giorno ero abbastanza lento a scrivere. Cioè... L'altra volta scrivo più velocemente. Vabbè. Non è un problema. Giusto così. Ecco. Questo subito comincio con un... Allora so in piena faccia e mi butto lì sotto e... Finiamo il round con lo stile. Ma a questo punto ero tipo disperato. Perché continuavo a cadere dappertutto. Stiamo 8 a 4. Proprio sono messo malissimo. E... Vabbè. Ho tirato un razzo a caso lì quasi. Mi stavo per cadere un'altra volta. Però l'ho preso con una rail. Mentre lui non mi ha preso. E questo è buono. Lo asce qui di controllare da che parte potrebbe arrivare. Da lì. Non lo prendo con l'LG. Mi si è spento lo schermo di nuovo come succede sempre. E non vedo più. Ah adesso sì. Molto bene. Ehm... Mi si è affermato un attimo la registrazione. Dannazione. Va bene. Ehm... Sì. Adesso salgo di là. Ah. Dannazione. Mi becco una rail in piena faccia. E... Lui salta su. Cioè. Lo colpisco con un po' di razzi. Ma anche lui mi fa tanto male. Pessima idea passare alla lightning gun. Invece no. Perché sto riuscendo a colpirlo abbastanza bene. Infatti riesco a vincere i round. Mi sono superato. Vabbè. Forse si tratta solo di un po' di riscaldamento. Ma comunque... Ehm... Poi ho cercato di evitare gli sconti con la lightning gun. Perché... Anche se magari poi... Ho fatto un po' di riscaldamento e l'ho migliorata. Ehm... Non sono molto bravo ad utilizzare lo stesso. È una delle armi che so utilizzare di meno. La lightning gun. Ehm... Qui... Match point per lui. E scomincio con un armi ma poi perdo nella maniera più idiota possibile. E così il primo gioco... Ehm... La prima partita si aggiudica a Infinite Power. E ora vedremo la seconda partita. Bene. Eccoci nella seconda partita del mio... Mh... Duello in clan arena. Su Quick Live con Infinite Power. Stavolta sulla mappa Sunwot Damaged. Che... Ehm... È molto più piccola. Sembra quasi strutturata per il clan arena uno contro uno. Comunque con poche persone. Ehm... E non ha posti dove cadere nel vuoto. E sono... E sono felicissimo di questo. Perché prima sono morto quasi sempre per colpa del vuoto. Ecco. Qui riesco a cominciare bene... Ehm... Facendogli... Prendendolo con due rail. E qui... Anche se arrivo alla fine del round con poca vita. Comunque l'LG basta ad ucciderlo. Così siamo al secondo round. Ehm... Individuali. Quindi lui mi ha potuto fare molto danno. Cioè gli sono praticamente andato addosso. E lui con l'LG mi ha stuprato. Vabbè... Tutto quel discorso sul calcolo della traiettoria è stato più o meno inutile. Sono io che non so quello che dico. Ma va bene. Qui purtroppo riesce a farmi tanto danno e... Mi finisce con lo shotgun in fucile a pompa. Che non fa molti danni da... Da lunghe distanze ma... Se il vostro avversario ha poca vita comunque... E' ottimo... Cioè non avrà scampo quasi con quell'arma. Anche sulla lunga distanza diventa efficace quando... Un nemico ha poca vita. Ecco qui. Scendo giù di nuovo. Cerco di stare lontano dalla sua lightning gun come... Facciamo nella partita precedente. Cerco di colpire anche con un aria verticale. Colpo quasi impossibile. Infatti non ce la faccio. Qui invece ce la faccio. Però... Qui poi per colpa dei... Dei colpi che ho mancato non... Sono riuscito a colpire lo più. Ora... Incominciamo praticamente attaccati. E' quello colpito con un po' di LG. Ma anche lui ci si mette e... Non è una buona idea. Io cerco di scappare ma lui riesce a farmi molto male. E perdo anche questo round. E... Cerco di cominciare dalla zona coperta stavolta. E colpire con un aria verticale. Non ci riesco mentre lui mi colpisce. Neanche questa volta. Aspetto che arrivi magari per colpire con un razzo. Ma... Non è un'ottima idea. E... Ho subito abbastanza danni. Ma sono riuscito... A colpire con... Altri razzi. Sì qui continuo un po' a camperare questa zona. Perché... E' abbastanza... E' un punto abbastanza vantaggioso dover trovarsi. E... Vedo che lui sta lì. E quindi mi tolgo subito... Proprio. E lì... Lui passa mentre io... Spammo i razzi. E quindi se ne becca uno... Diretto e muore. Quindi bene. Siamo a 3 a 2. Qui. Non riesco colpire con... La rail. Neanche questa volta. Però... Gli ho fatto un po' di danno con i... Con il razzo. E qui di nuovo la mia LG schifosa. E subisco un sacco di danni. Senza danni in cambio. Continuo a mancare le rail. Anche alcune molto facili. Questa volta che lo prendo mentre utilizzava la rail gun sono riuscito a ritirargli un po' di danno di lightning gun. E qui con la rail alla fine lo finisco. Molto bene. E lui nooo. Va bene. 3 a 3. Siamo in pareggio. Qui pensavo di potermi allontanare abbastanza da non farmi colpire dalla sua LG ma invece ci riesce. E dato che mi trovavo in linea retta con lui mi ha colpito con tipo precisione del 100%. Mi ha fatto una madonna di danni e poi mi ha tirato anche una rail. Io non ho praticamente più possibilità di finire il round. Questo è andato proprio malissimo. Ora comincio in questa zona a metà della mappa ma scappo dentro l'edificio. Lui cerca di sparare una rail ma non mi colpisce. E io invece ci riesco. Due di consecutivo. L'LG però lui è molto più preciso con l'LG come al solito e quindi mi uccide. Qui adesso non lo colpisco con la rail. Lui per il futuro non riesce a farmi molto male con la Lightning Gun. E io qui lo aspetto che arriva. Cerco di capire dove si trova. Eccolo, arriva. Lancio un bel razzo. E scappo dalle finestre. Per poi... Tengo un'altra rail. Trovando di Lightning Gun. Riesco a fare un po' di danno questa volta. Forse riesco a fare... No, non ce la faccio. Ma va bene così. Infatti qui dico niente. LLG non ti batto. E qui quindi... Proprio dovrei un po' di danno e cercherò di stare lontano il più possibile. Infatti come vedete comincio a spammare granate. Sì, infatti lui mi scrive. È l'unica arma che sa utilizzare bene. E la utilizza molto bene, devo dire. È molto forte. Infatti ogni volta che lui arriva e cerca di colpirmi con lLG, io scappo. Di cattiveria proprio. E cerco di colpirlo con delle rail o un razzo magari. Più o meno con questa la mia strategia. È un continuo mordi e fuggi. Però... Sembra avere effetto. E ora lo vedrete. Bene. E siccome la gente continua a intrudersi in camera mia. Probabilmente questo video... Il commento del video verrà con l'audio un po' sfasato. Un po' di ritardo in anticipo, non lo so. Vi chiedo scusa ma certe volte è inevitabile. Non è sempre facile far corrispondere le tace radio e video in questi casi. Comunque... Qui come vedete la mia strategia è di cercare di colpire ogni volta che si avvicina a lui. Scappare. Mi ha fatto vincere gli round. Ora qui però lui mi colpisce con una rail. Io con un razzo. Perché l'ho visto che si avvicinava e quindi sono scappato. E qui di nuovo... C'è quel colpire con la redica, non ci riesco. Qui ci riesco mentre sono in volo, bel colpo. Con l'LG però lui riesce a farmi fuori. Oddio. Ho toccato il microfono, probabilmente avete sentito un brutto rumore. Va bene. Qui comincia il prossimo round. Siamo 7 a 4. Subito di LG di cattiveria, non so se l'ho fatto. Però gli ho tirato un bel razzo quindi forse riuscirò a farcela. Sì, anche una rail mentre si trova in volo. Anche se mi ha fatto paletti danno ho ancora delle possibilità di farcela. Lo sento che utilizza la... La cosa. Cioè il jump red. E quindi mi aspettavo che arrivasse da quel lato e avevo già la railgun pronta. E quello è bastato... A... A... Ucciderlo. Comunque... Sì, la railgun mi ha aiutato molto davvero. Ehm... Cioè, in teoria... Anche se non è l'arma che ho utilizzo di più perché non è molto versatile. La railgun è la mia arma preferita. Cioè... Un po' di... In tutti i giochi FPS le armi da cecchino sono quelle che mi piacciono di più. È un po' per questo che alla fine io mi chiamo cecchino 98. Non solo per questo ma... Perché è un use enemy abbastanza schifoso quindi... Vabbè, basta. Ehm... Ma sì, mi dice che sono forte. La verità... Cioè, non è che sono... Proprio forte. Cioè, quando... Vorrei che sapesse che quando si parla... Di essere forti o meno su Quake bisogna... Se lo si intende... In senso generale... Allora, dopo... Più o meno... Tre o quattro anni che giocate... Ma anche cinque forse... Potete dire di essere forti magari... Ma... Altrimenti... Siete scassi perché ci vuole veramente tanto per diventare forti a questo gioco. Se no, se dobbiamo parlare in un... In un certo range di abilità con i giocatori... C'è comunque delle gente che magari... In una stessa quantità di tempo che hanno giocato... Sono più forti o meno forti in delle cose. Io, per esempio, non... Sono più scasso della media con la Lightning Gun... Però magari me la cavo meglio con l'Area e il Gun con i Razzi. Però molto dipende anche dai... I giorni... Ehm... Anche da... Come mi trovo mentre gioco. Perché... A volte, specialmente quando... Uno si innervosisce mentre gioca... Poi comincia a giocare molto peggio. In questa partita mi sono... Ero abbastanza calmo quindi riuscivo... A giocare concentrato e a... Utilare dei bei colpi. Lì ho tirato un Razzo completamente a caso... Ma siccome c'era un traliccione nel bel mezzo che... Ancora non avevo tipo nemmeno notato... Sono riuscito comunque a colpirlo. Siamo a 9 a 7. Questo è il match point per me. Vediamo come andrà a finire. Sì, qui... Tanto, ormai la mia strategia è sempre questa. Aspetto in questo... In questo spazio chiuso. Ehm... Lo colpisco con un aile quando arriva... Da un... Da una delle zone esterne. E quando entra scappo via. E qui, con un bel Razzo... Finisco la partita. Che va quindi... In mio favore. Vabbè, 1 a 1. Abbiamo fatto solo due partite. Non è stato... Chissà che grande. Comunque... 21 minuti di video passati. Quindi direi che possiamo chiudere. In chiudere. Grazie per aver guardato questo video. Spero vi sia piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.